In collaborazione con Buon pomeriggio, eccoci a conserto appuntamento con lo sportello pensione o sportello pensionati con noi Ennio Toniuti dell'FNP Cisle di Udine Giancarlo Tabacco dell'FNP Cisle dell'Alto Friuli Buonasera, grazie per essere qui con noi Vediamo subito, arrivano già i messaggi? Sì, non faccio in tempo a dire Guardate, potete cominciare a inviarci i vostri messaggi le telefonate allo 0432 573517 e i messaggi a 393 186 1551 Vediamo subito chi ci ha inviato, ecco qui Buonasera, ho presentato domanda di pensione precoci IMS venerdì, mi ha detto che i requisiti ci sono fino ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta Sapete darmi notizie anche di graduatorie, Pieri? E ce n'è già anche un altro, vediamo il volo Le notizie di graduatorie dovremmo girarle a Boeri che si preoccupa di dar fastidio a tutti i pensionati e a tutto il mondo non si preoccupa di mantenere gli impegni all'istituto perché la graduatoria doveva essere pubblicata il 15 ottobre invece si sta preoccupando di dar fastidio con altre cose Quindi se lui non ha avuto la reiezione della domanda conviene fare la domanda per la vera domanda Comunque mi pare di capire che ha i requisiti che gli sono stati confermati dall'IMS E quindi deve fare la domanda formale Sì, almeno qua dice Sì, ho fatto domande di pensione precoci, IMS Venerdì mi ha detto che i requisiti ci sono ma fino ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta Comunque faccio la domanda, perfezionarla Perfezionare la domanda Bene, vediamo l'altra messa Rivolgersi al patronato Inas Ecco, vediamo l'altra Ho 58 anni A dicembre sono 41 anni che lavoro Quando vado in pensione Grazie Nadia Beh, diciamo che Quindi è una donna tra l'altro Quindi con 41 anni di lavoro dovrebbero rimanere gli pochi mesi a questo punto Quindi se rientra quest'anno Entro, adesso non so di preciso i mesi che servono Oltre i 41 anni Ma sicuramente entro il prossimo anno Avrà il diritto per andare in pensione Ce la fa evitare i 5 mesi Ce la fa A proposito, dopo parliamo anche di questa cosa C'è un altro messaggio Però questo avanzava dalla scorsa settimana Buonasera, sono Giuseppe da Gorizia Il 20 ottobre faccio 41 anni di contributi Riconosciuto 70% di invalidità Oggi ho 57 anni d'età Quanti anni dovrò ancora lavorare? Grazie Purtroppo il signore non potrà Non può rientrare nel discorso dei precoci In quanto la percentuale di invalidità 70% Diciamo che è troppo poco Sempre che non ricorre a una delle altre condizioni Sì, almeno che non ricorre a altre condizioni Appunto lavori pesanti Oppure che abbia assistito a degli invalidi Oppure disoccupati Ma non credo in questo caso Quindi se non rientra O se non riuscirà ad ottenere Una invalidità pari almeno Al 74% Quindi dovrà in pratica Lavorare ancora due anni Fino ad arrivare a 43 anni di contributi Sì, quindi forse va prima in pensione E dopo riesce a fare la visita per l'aggravamento Beh, insomma non abbiamo ancora tempi molto così lunghi Ma comunque certamente C'è il rischio Insomma c'è il rischio, no? Vedendo Ci sono tutti i presupposti 63 anni Questa è una signora 31 anni di lavoro L'APE volontaria? Quando sarà possibile? Beh, diciamo che l'APE volontaria Potrebbe essere anche possibile adesso Con 31 anni si presume Che la signora abbia maturato Un valore di pensione Superiore a 1,4 mila Di senso di 700 euro al mese Quindi può fare la richiesta È logico che l'APE volontaria È soggetta Diciamo così All'accensione Di una specie di mutuo Di prestito Diciamo così Che deve essere Reso Quindi Non so con quali Dopo bisogna vedere i tempi Le modalità È stato pubblicato il decreto Il 13 ottobre 17 No 17 ottobre 17 ottobre Quindi settimana scorsa Ancora stiamo aspettando L'accordo fra le banche Che dovrebbero appunto garantire Questo prestito E quindi Naturalmente credo Tabacco parla proprio Prestito Un prestito Che deve essere comunque Ritornato Sottolineiamo È un prestito garantito Dalla futura pensione Ciò non toglie però Che di non magari Arrendersi subito Può comunque chiedere Fare la domanda Per questo APE volontario Quando avrà in mano Tutti i dati Sia del prestito Che della pensione Che gli resta Potrà accedere Infatti questa Di 63 anni È una signora Con la quale ho parlato Io direttamente E mi ha detto appunto Di sollevare La problematica E le ho detto Signora guardi che poi Deve restituire i soldi Lei mi ha risposto Sì Però io Ne ho bisogno Adesso Deve aspettare comunque Fino a metà mese Quando ci sarà L'accordo con le banche Ci saranno tutti i dati Esatti La possibilità di fare i calcoli Al centesimo Toglitemi una curiosità Perché entriamo proprio Nella attualità In attesa di altri messaggi E di altre telefonate La pensione Sempre più Una chimera Ci sono le novità Dell'ultima ora Cinque mesi in più Per quanto riguarda L'aspettativa di vita Eh dio Il problema della speranza di vita A 65 anni Perché la norma Che è stata Approvata nel 2009 È cominciata Ad applicarsi A 2010 Che però quella volta Aveva un peso E dopo con la riforma Ha avuto un peso Un peso nettamente più Nettamente più elevato Chiedo scusa Riprendiamo subito La questione Perché c'è una telefonata Sentiamo chi c'è in linea Pronto Perché diamo priorità ai telespettatori Pronto con chi parliamo? Buonasera Buonasera Volevo chiedere un'informazione Per quanto riguarda L'appe sociale Prego Possiamo sapere intanto Da dove chiama Come si chiama Chiamo da Udine Chiamo da Udine Sì E il suo nome? E Doridelvio Bene Sì Ci bastava solo il nome Prego Prego Mi scusi se l'ho interruttata No niente Ho fatto domanda Di appe sociale E Non ho avuto Nessun tipo di risposta Per quanto riguarda L'Inps L'ho fatta attraverso Attraverso il patronato Tenga presente Che Mi è arrivata Dal patronato Una certificazione Che la mia domanda È apposta Per quanto riguarda I requisiti Volevo chiedere solo questo Mi è arrivata Questa mattina Da parte dell'Inps Di Udine Una lettera In cui mi dice Che le mie Diciamo così I requisiti Sono corretti Cosa devo aspettare Ancora? Adesso Ti conviene tornare Impatronato E fare la domanda Io l'ho già fatta La domanda A suo tempo No Ha presentato La domanda Di avere la certificazione Di avere i requisiti Adesso deve formalizzare La domanda Vado impatronato Avrò Avrò fatto anche l'altra Però Tenga presente Avrò fatto anche la domanda A vera e propria In pratica In pratica In pratica A questo punto dovrà aspettare Solo la pubblicazione Delle graduatorie Siamo tutti che aspettiamo Arrivata oggi C'è scritto In considerazione Delle risposte disponibili Previste Si attesta Che sussiste La relativa copertura Finanziaria Perfetto Questo può essere utile A qualcuno Insomma Diciamo che In pratica Fortunato È andata bene Hanno già considerato I numeri Di quelle risposte Positive E hanno ritenuto La copertura automatica Ecco Di fatto Effettivamente Sono Io ho 66 anni 38 anni 38 anni di contributi E meno di 1500 euro Di pensione L'ordine al mese Tutto a posto Complimenti E l'aspettiamo Nei nostri ranghi A questo punto Da pensionato Sì Non dovrebbe essere Una cosa lunghissima Perfetto E quando potrà percepire Poi Una volta che Diciamo Era fuori Il laboratorio Ufficiale Nel giro di Credo di un mese L'Inps Ormai liquida Le pensioni Riesce a liquidarle Sì sì Bene ringraziamo Complimenti Che ci è arrivato Va bene Va bene Speriamo che sia vero Cos'è mai Vi richiamo A provvisare Se arriva la comunicazione Ok Potrebbe arrivare Tramite l'Inps Di Roma No presumo Perfetto Sì Di Udine Ah beh per quanto riguarda La gradatoria Va bene La ringrazio Grazie a lei Per aver chiamato Ritorniamo un attimo Quindi alla questione Pensione è sempre più Allora il problema Allora il problema Forse richiamiamo Non andiamo al 2009 No richiamiamo Qual è il meccanismo Allora la speranza Di vita a 65 anni È il tempo Che in media Resta da vivere Una volta superata Quella soglia Quindi determiniamo che da 65 Nel 2016 è stata determinata Ieri da l'Istat In 20,7 anni Rispetto al 2013 L'aumento è di 5 mesi Quindi per la norma Che richiamavo prima L'età della pensione Dovrebbe essere spostata Dal 2019 Di 5 mesi Quindi dai 66 anni A 7 mesi A 66 A 67 anni C'è il gioco dei 7 Cosa serve Perché è un automatismo Perché entri in vigore Basta un atto amministrativo Un decreto dirigenziale Che deve essere fatto Entro il 31 dicembre E quindi La 1 gennaio 2018 Queste regole Incominciano A essere prese in considerazione E quindi Chi andrà in pensione Dal 2019 Non c'è speranza che cambi La speranza è di carattere politico E come sindacato E qui c'è la parte politica Voi cosa state facendo a Roma? Perché mi pare Non abbiate Ancora non abbiate portato a casa Effettivamente La domanda mi piace così Non cosa fate a Roma Il problema è che Dobbiamo farlo tutti Nelle nostre case Nelle nostre piazze Nelle nostre attività Possiamo riprendere tra un attimo Facciamo una piccola pausa Poi continuiamo con la discussione A fra poco Eccoci un'altra volta In studio Ho scaldato un po' L'animo di Elio No perché Quando si parla Di fronte a queste cose Il problema Non è delegato A qualcuno Che è lontano È delegato a noi Che assieme Forse possiamo far cambiare Le idee E le decisioni Alla parte Ai nostri rappresentanti Che fanno le leggi E che ci governano Ecco era tutto quello Quindi sentiamoci tutti impegnati A superare questo ostacolo E quindi il sindacato Per rinforzare Il sindacato Ha già appena Nelle more Del tavolo di contrattazione In cui c'era questa condizione Ha messo in moto Tutta una serie di iniziative Già Abbiamo già fatto un presidio In prefettura Udine Per esempio Adesso ci saranno le assemblee Nei posti di lavoro Noi pensionati Le faremo Nelle nostre Nelle nostre organizzazioni C'è qualcuno Che parla di scioperi Parleremo anche Di manifestazioni L'attività Classica del sindacato Che funziona meglio Più gente ha con sé Più gente condivide Queste battaglie C'è comunque C'è comunque Il discorso Che se anche Non è entrato L'argomento Nella legge Di stabilità Dell'anno prossimo Considerato che comunque Non impatterà Ci sono 12 mesi di tempo Per assorbire E l'argomento è ancora aperto Nei futuri incontri Ci sono 12 mesi di tempo È logico che Siccome poi Le voci E i calcoli Di questi benedetti Pensatori O studiosi Che io dico Studiano troppo Sui libri E poco sul territorio Ecco quindi Credo che Sia impensabile Dovrebbero capirlo Anche loro Impensabile Che un lavoratore Arrivi a lavorare Fino a 70 anni Per andare in pensione Questo è previsto Nel 2050 Quindi Credo che sia impossibile Ed è anche In contraddizione Con quanto Si Predica In giro Sul riconoscimento Del lavoro di cura Sul sostegno Alle famiglie Perché Di questo passo Credo che Vada di mezzo Anche sicuramente La coesione sociale Già Diciamo così È un po' precaria A livello Familiare Se poi Non si riesce Si continua a lavorare E non si riesce A dare A guardare Con un occhio di riguardo Insomma Quelle che sono Quelle Poche famiglie Diciamo così Che ormai Sono rimaste sane E serene Credo che Si andrà ancora Molto peggio E tra l'altro La stessa età Anche per le donne Uomini e donne Allo stesso livello Sì Fino Noi donne Potevamo andare In pensione Ad oggi Era differenziata Ad adesso invece Tutto uguale C'erano addirittura Cinque anni di differenza Appunto Per la pensione di vecchiaia Ci sarà stato un motivo? Forse I nostri anziani Politici Nonostante Un motivo Forse Ci sarà stato Nonostante le critiche Che Gli sono piovute Da più parti Ecco Forse ancora Ragionavano ancora meglio Di quelli attuali Ecco Diciamo Diciamo di sì Senz'altro Perché c'era una visione Del futuro Adesso la visione Del futuro Non c'è Su questi atti Che sono in contraddizione Investiamo risorse Per fare entrare Nel mondo del lavoro I giovani Dando risorse Dando risorse alle imprese Per abbattimenti contributivi E non investiamo magari Lavoratori Per pagare le pensioni Andando in pensione Cinque mesi prima Prendiamo L'esempio attuale In pratica I lavoratori I giovani Dovrebbero pagare Cinque mesi in più Di pensione A quelli che Vanno in pensione Io credo Che Almeno Così dovrebbe essere stato Che Quello che abbiamo maturato Nella nostra carriera Lavorativa Avrebbe dovuto Servire Per poterci Dare La pensione Ma con i nostri soldi Che abbiamo Versato A suo tempo Il meccanismo Che i giovani Di oggi O i lavoratori In genere Devono pagare Le pensioni Ai pensionati Mi pare Che sia In pratica Sia stata Una cosa Che non funziona E chi ha programmato Questo Meccanismo Credo che Non abbia ragionato bene Insomma Riusciamo ad esaminare Anche questa situazione Ecco Questa persona Di Udine Si è vista Respingere L'ape precoci Perché Allora Questo dice Una lettera Dell'Inps Siamo spiacenti Nel comunicarle Che non è stato possibile Accogliere la domanda In oggetto Priva Della documentazione Per accettare Riconoscimento L'attività Lavorativa Faticosa E pesante Copia Libretto di lavoro Lettera D'assunzione Buste Paga Degli ultimi Dieci anni E attestazioni Presenze In servizio Questa è fresca Fresca Appena arrivata Al sindacato Come richiesta Probabilmente Bisognerebbe chiedere A Boeri Se ha avuto Problemi digestivi Durante la notte E hanno inventato Anche queste Queste vicende E Manca la documentazione La documentazione È Prevista Dal decreto Pubblicata Sul Gazzetta Ufficiale Non parla Di quei documenti Lì Chiedere Quei documenti Lì Diventa Una roba Assurda Proviamo A immaginarci A fare Le fotocopie Delle buste Paga Di dieci anni E poi Con cosa Le portiamo Anche con Un camion Direttamente A Boeri In casa sua Quelle sono Le modalità Per fare Ostruzione Sulle norme Che possono Facilitare O semplificare L'accesso Alla pensione Quasi I soldi Fossero suoi Invece Lui sta Amministrando Un istituto Che non è suo Ha dei lavoratori Ha dei datori Di lavoro Lui per caso Si trova lì E purtroppo Sarebbe opportuno Anche se Che siamo Comodarsi Da qualche Altra parte Siamo giunti Al termine Della trasmissione Non posso fare Altro che Ringraziarvi Si era creato Un clima Piuttosto bollente Ringraziamo I nostri amici Tere spettatori Che ci hanno Telefonato O che ci hanno Inviato sms E ringraziamo Gli ospiti Che ricordiamo Essere Ennio Tognuti FNP Cisle Di Udine Giancarlo Tabacco FNP Cisle Dell'Alto Friuli Noi con sportello Pensioni O pensionati Ci vediamo Mercoledì prossimo Sempre alla stessa ora Buonasera a tutti In collaborazione con Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti